La voce della coscienza in formato applicazione per telefonini, ricorda quando il livello di guardia viene superato che sarebbe meglio fermarsi e smetterla di buttar soldi. La ludomania che cura la ludopatia, la dipendenza dal gioco che diventa malattia. Installarla è facile e gratuito, diventa un registro delle entrate e delle uscite. Ad Andrea i soci di uno studio di consulenza informatica definiscono la loro invenzione grillo parlante o se preferite cane da guardia. Chiamatelo come volete ma è preferibile sempre ascoltarlo quando la voce della coscienza si addormenta. È un'applicazione che consente di far parlare i numeri, quanto ho giocato di queste giocate, quanto ho vinto. In questo modo è già un primo passo per avere una coscienza più basata sui numeri di ciò che stiamo facendo quando parliamo di giochi e lotterie.